Questa è una delle serie più scioccanti di Netflix. In questi giorni non si fa che parlare di Baby Reindeer, una serie di Netflix che in sette puntate esplora l'intricato rapporto fra un uomo e la sua stalker. Il protagonista Donnie è anche il regista della miniserie e la storia è ispirata a un'inquietante storia vira che è capitata proprio all'uomo, a Richard Gadd, che è stato stalkerato da una donna in effetti per quattro anni. Tra l'altro la miniserie è ispirata all'omonima opera teatrale che ha portato per la prima volta Richard Gadd in un teatro a Edimburgo. Questa miniserie è in vetta alla top 10 delle serie tv più viste su Netflix in questo periodo e credo che il motivo sia principalmente perché è molto onesta, perché caratterizza il tratto psicologico di entrambi i personaggi coinvolti e non ci dà mai la sensazione di puntare il dito verso uno dei due, o in questo caso verso la stalker, e quindi non la dita mai come la cattiva della situazione. La serie parla di questo Donny, un comico e scrittore scozzese in difficoltà, a un certo punto entra nel pub dove lui lavora una donna, una donna che è affranta, sta piangendo, e lui, distinto, le offre una tazza di tè, perché lei aveva detto di non avere i soldi, di non avere i portafogli con sé, lui le offre questa tazza di tè e sarà l'elemento che scatenerà una serie di atti di stalking e persecuzione che l'uomo dovrà affrontare per quattro anni della sua vita e che cambieranno radicalmente il modo di vivere e di pensare del protagonista. In questo video farò il punto su quello che è il finale della miniserie, cercando di rispondere alle domande che ci avete fatto più spesso nei commenti, quindi se vi siete alzati dal divano o dal letto o da dove pare con un mucchio di domande, ecco, questo è il video che fa per voi. Nella scena finale di Baby Reindeer, vediamo Donny entrare dentro un pub dopo aver ascoltato uno dei tantissimi vocali di Marta, che è la donna che lo perseguita da ormai quattro anni, si siede in questo pub, ordina una vodka e cola, forse in riferimento alla coca light che aveva preso Marta quando entrava nel pub dove lavorava lui, il ragazzo al bancone gliela porta e gli chiede di pagare, ma lui si ricorda di non avere il portafogli e quindi dice scusami ma non ho i soldi per pagarla. L'altro gli fa non ti preoccupare, te la offro io. E qui ci riporta un po' indietro alla prima puntata quando abbiamo visto proprio Marta entrare per la prima volta dentro al pub dove lavorava Donny e lo sguardo finale che Donny dà a questo ragazzo, a questo bel ragazzo che lavora al pub può essere interpretato in due modi. Da una parte Donny può essere diventato Marta, cioè dopo aver subito tutto il periodo di stalking, insomma, e le persecuzioni attraverso i vocali, le email e le parole di Marta, può essere diventato paradossalmente la nuova Marta, ma in questo caso può decidere se fermarsi o se andare fino in fondo con i suoi istinti. Beh, poi scorrono i titoli di coda e quindi Donny chiude il cerchio su quella che è stata la sua storia dopo l'avvento di Marta nella sua vita e sarebbe in linea con la costante confusione con cui ci mette a contatto la serie, cioè paradossalmente, come dicevo, Donny può essere diventato Marta, cioè una persona malata di mente che assecunda tutti i propri istinti. Però c'è anche da dire che Donny si trova in una posizione sì simile a quella di Marta all'inizio della serie, ma è arrivato anche a un raggiungimento della maturità nel corso delle varie puntate. Perché quando guarda il barista con fare sorpreso, ma anche un po' ammiccante, vediamo un Donny che può decidere, può avere il controllo sui suoi istinti e quindi non comportarsi come si è comportata Marta quando è entrata per la prima volta nel suo pub con fare assolutamente innocente. Tra l'altro nell'ultima puntata Marta in uno dei suoi tantissimi vocali spiega a Donny il perché l'ha sempre chiamato piccola renna. Da piccola aveva questa piccola renna a giocattolo e lei dice è stata l'unica cosa vera, importante della mia infanzia, quando i miei genitori litigavano io me l'abbracciavo e fa delle similitudini e dei paragoni fra lo stesso Donny e questa renna. Non c'è dubbio che se l'origine del nome Baby Rain Beer la dica lunga sullo stato mentale di Marta ci dice pure che non è assolutamente la vera cattiva di questa storia. Anzi, lo stesso Richard Gadd in un'intervista ha spiegato che non voleva dipingere Marta come la cattiva, come il vero cattivo, ma la sua voleva essere una critica contro i media e di come viene mostrato lo stalking oggi. Lui vede lo stalker come una persona profondamente malata di mente e pensa che la società abbia deluso Marta ecco perché poi dopo i traumi infantili si è arrivata a fare quello che ha fatto. Paradossalmente l'impressione che ho avuto è che Donny senta una certa empatia, una certa curiosità e si è attratto paradossalmente nonostante tutte le brutte parole, le email, i tantissimi migliaia di messaggi che gli ha inviato Marta, si è attratto da questo personaggio e si è incuriosito, anche perché nell'ultima puntata lo vediamo dire alla sua ex fidanzata voglio capire, voglio capire, lui voleva capire fin dove sarebbe stata disposta ad arrivare e perché era diventata così. Cosa che non hanno fatto le persone che avrebbero dovuto aiutarla a uscire da questa situazione, da questa vera e propria malattia come ci insegna Richard Gad. E poi è la prima volta che vediamo una donna stalkerare un uomo e viene messa sullo schermo nel modo più semplice e onesto possibile. Io credo che la parola giusta per descrivere questa miniserie sia onesta, anche perché, lo abbiamo visto, ha dato del filo da torcere al problema dei tre corpi che era in vetta alla top 10 di Netflix in questo periodo, perché con uno stile molto semplice e molto veritiero, si vede che c'è l'anima del regista e quindi del protagonista in questa storia e si vede che la racconta con la massima onestà possibile. Tra l'altro Richard Gad ha raccontato che ha cambiato, camuffato profondamente sia il nome di Marta sia la sua fisionomia per non farla riconoscere, anche se è palese che la persona di cui parla Richard Gad sia la stessa che lo ha perseguitato per diversi anni. Quindi Donny e Marta non sono altro che due facce della stessa medaglia che arrivano a questo punto della loro vita da dei traumi passati e che ognuno di loro deve esplorare e fare i conti con i propri mostri e quindi non c'è uno buono e uno cattivo, sono entrambi considerati delle persone che hanno vissuto dei traumi e quindi le conseguenze si vedono sulle loro azioni di adesso. A proposito di traumi del passato, nell'ultima puntata c'è questa visita di Donny all'uomo che lo aveva traumatizzato, questo sceneggiatore che fa finta di niente, anzi nemmeno si scusa per un attimo per quello che ha fatto e anzi gli offre di scrivere una sceneggiatura. Donny accetta ma quando esce poi fuori dalla porta crolla e quindi il suo mondo ha chiuso un altro cerchio anche qui facendo visita a Darian e c'è da dire che ha raggiunto la sua maturità come dicevamo prima sia dicendo tutto ai genitori e con quel video dicendo tutto a migliaia di persone che poi hanno visto il video ma poi chiudendo il cerchio con quest'uomo che lo aveva traumatizzato in passato e è riuscito ad andare avanti. C'è poi una domanda che ci avete fatto spesso nei commenti perché quando lui lo dice ai genitori cioè del fatto che un uomo in passato ha usato violenza su di lui quando lo dice al padre il padre lo guarda e gli dice io sono cresciuto nella chiesa cattolica e Donny rimane per un attimo in silenzio a guardarlo ma come rimaniamo noi spettatori abbiamo un attimo ci serve un attimo per capire quella scena perché è veramente assurda e in quella parola c'è tutto e il padre confida a Donny che anche lui è stato abusato in passato e che quindi può capirlo e comprenderlo e quella scena si conclude con un abbraccio di famiglia che serviva tantissimo a Donny e che lo fa maturare ancora di più e che gli dà un senso di positività e forza per affrontare poi tutto quello che verrà dopo. Ma la domanda vera è cosa è successo alla vera Marta nella vita reale? Allora Donny Richard Gadd anzi ha affermato che tutte le cose raccontate nella serie sono veritiere ma che non se l'è sentita e questo mi ha lasciato un po' così ma fino a un certo punto di mandare in carcere qualcuno malato di mente quindi è molto probabile che abbia concluso la storia con la vera Marta e lei si sia fermata a perseguitarlo ma è anche vero che invece nella serie vediamo che c'è il processo lei Marta dice sì sono colpevole viene condannata a nove mesi poi diversi anni di ordini restrittivi nei confronti dell'uomo ma è paradossale il fatto che nella vita reale non abbia deciso di mandarla in carcere dopo tutto quello che le ha fatto quindi è una serie che punta molto sul lato psicologico e che non ci dice mai chi è il cattivo e chi è la vittima in questo caso ma voglio sapere voi cosa ne pensate scrivetemelo nei commenti se avete altre domande sul finale di questa serie se vi è piaciuta e come reagireste se una persona uomo o donna che sia si comportasse nei vostri confronti come ha fatto Marta nei confronti di Donny io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube c'è che azione seguiteci su Facebook Instagram e TikTok dove tutti i giorni parliamo di cinema e serie tv al prossimo video grazie a tutti i giorni grazie a tutti i giorni a tutti i giorni a tutti i giorni grazie a tutti i giorni